ciao amici oggi vi parlo della caveco student nella serie jazz l'ultima arrivata come è diversa dalle altre lo vedremo insieme intanto faccio un po di pulizia perché sto studiando tanti nuovi prodotti che caveco ha immesso sul mercato compresi le serie premium dei pennini che vedremo in un prossimo video caveco è un'azienda che affonda le radici nella storia della penna stilografica un brand molto conosciuto apprezzato e che negli ultimi anni sta sviluppando molte molti nuovi progetti intanto vediamo come si presenta la nostra stilografica caveco student diciamo l'astuccio è quello solito e non serve dire altro perché veramente molto bello una una tradizione che mantiene con molte suoi oggetti stilografiche accessori e insomma è molto bella la scatolina ormai la conosciamo tutti e credo che sia anche uno dei motivi almeno per me personalmente per acquistare una penna caveco che sia una di quelle belle una di quelle un pochettino più economiche ma questa scatoletta di latta ha sempre il suo fascino quindi il packaging è quello solito per fortuna quindi bello all'interno troviamo un paio di adesivi che mettono sempre 23 mini istruzioni anche per raccontarci invece da una parte la storia del marchio che affonda le radici vi dicevo fin dal 1883 e poi un pochettino di informazioni compresa la garanzia e sull'utilizzo della penna ed ecco qui la nostra student questa è la versione jazz sapete che la student è una penna molto apprezzata perché una penna di sostanza partendo dalla versione black che quella per così dire base una penna che anche secondo me è un best seller nella sua categoria in quanto stiamo parlando di una penna molto molto piacevole al tatto e mi spiace dirvelo è una di quelle penne che va presa in mano perché vista nel catalogo vista nella vetrina non rende l'idea di quello che poi al tatto si percepisce ma ve ne parlerò fra poco la caveco student si arricchisce di due nuove versioni perché come vi dicevo c'è la versione standard base quella cosiddetta black ma poi ci sono le colorazioni tutte dedicate comunque al mondo della musica i generi musicali soul rock swing con dei bei colori non sgargianti ma belli semi pastellati mi verrebbe da dire comunque una stilografica che si presenta già completa nella nella sua versione di vendita perché sapete che per esempio le serie più piccole come la sport non hanno la clip qui invece troviamo una stilografica bella e completa con tutte le sue parti adesso andiamo ad analizzare vi dicevo versione jazz con questo cappuccio marrone e invece la versione blues con un cappuccio rosso che è anche altrettanto bella almeno per i miei gusti la prima cosa che colpisce prendendola in mano è la struttura la sostanza la consistenza di questa penna perché innanzitutto lo potete notare il cappuccio ha una clip una clip in metallo una clip che ha il suo peso lo stesso possiamo notare il simbolo il logo della caveco che si trova anche su tutte le altre penne della produzione ma in questo caso essendo una penna ben più in infinita si apprezza maggiormente anche la placatura di questo di questo elemento è molto ben realizzata al pari dell'anello ed infatti il cappuccio è uno di quegli elementi che ha comunque un suo bel peso trovo inoltre ben realizzate anche le scritte che stanno sul retro sono veramente ben fatte fanno pandan col colore insomma è una di quelle che mi piace vi ho detto della veretta ma vi dicevo della sostanza del del peso da una parte abbiamo infatti che cosa un'impugnatura in metallo io non sono un appassionato di queste impugnature però devo spezzare una lancia perché in questo caso è veramente molto molto comoda direi anatomica per prendere in prestito il gergo da altri mondi da altri settori le dita trovano comodamente spazio in questa vedete come concavo in questa impugnatura che può essere a seconda dei vostri gusti e delle vostre mani sottile come vedete ma anche ben più larga la filettatura è posta abbastanza in alto quindi non dà molto fastidio anzi tra l'altro una filettatura non molto in vista non molto superficiale quindi si percepisce anche poco però le dita trovano il loro giusto agio il pennino il pennino è il pennino che caveco consente di cambiare non solo con un'ampia gamma di gradazioni che vanno dall'extrafine fino agli stab ma anche con le tre tipologie di pennini che mette a disposizione che sono quello standard come in questo caso stiamo parlando di un pennino f un pennino in acciaio di gradazione f il pennino premium e il pennino in oro che probabilmente su una penna come questa comincia già ad avere un suo perché la cosa che però vi ho detto più rilevante secondo me è il fusto il fusto tanto andiamo a vedere che cosa ci danno in dotazione una cartuccia vuota no c'è anche la cartuccia piena la cartuccia di cortesia la cartuccia vuote per farvi vedere o ricordarvi che eccolo qua la penna ne può contenere due quindi abbiamo anche quella di riserva secondo me è una cosa molto utile e intelligente vi dicevo lasciamo un attimo a terra le cartucce la sezione come potete vedere una sezione abbastanza generosa e questo significa che abbiamo un peso anche in questa parte ora è vero che caveco non fa le cose a caso trovandoci a che fare con una sezione in metallo non si poteva lasciare una plastica leggera a completare la penna perché sarebbe stata completamente sbilanciata ed infatti qui c'è proprio la sorpresa questa resina un pochettino più strutturata con una sezione maggiore rispetto a tante altre che affollano la categoria di prezzo fa la vera differenza il consiglio che comunque vi do visto che può tenere due cartucce tenetele le due cartucce perché il peso che andiamo ad aumentare nella sezione eccola qua della nostra penna la bilancia un pochettino meglio questo almeno secondo i miei gusti secondo la mia mano se riesco a farvelo vedere anche il cappuccio a una eccolo qua anche il cappuccio a una un'attenzione nel rivestimento vedete ci sono ampie parti in metallo che lo rendono particolarmente pesante ma anche particolarmente gradevole gradevole perché intanto la penna si apre si chiude in un attimo senza esitazione potendo afferrare qualcosa di solido mettiamola alla prova tiriamo via le cartucce userò questo converter per caricare mi sembra proprio opportuno il bel caramel brown della caveco questo è il modello jazz il pennino un pennino fine l'inchiostro lo scriviamo così il pennino f di questa penna sarebbe il pennino standard dico sarebbe nel senso che scrive molto bene i pennini caveco sono sono dei pennini onesti dei pennini onesti nel senso buono della parola fanno il loro lavoro soprattutto io che sono un appassionato di pennini fini ed extra fini mi trovo molto bene con questi con questi pennini che sappiamo non essere prodotti direttamente da caveco ma poco importa insomma non interessa che scrivano bene ed effettivamente scrivono bene hanno una bella cura posso dirvi che la cosa che principalmente mi colpisce il bilanciamento della penna effettivamente come vi avevo detto inizialmente ci ho messo il converter quello mini che mi consente anche di tenere la cartuccia una cartuccia che adattato qua dentro perché da un pochettino più di peso e quindi di bilanciamento alla penna dandole un pochettino più di peso vi dicevo in questa parte un altro aspetto che si percepisce meglio scrivendo piuttosto che guardandola è proprio la qualità del materiale questa è veramente una resina fatta bene con una finitura ottima non ci sono stacchi non ci sono piccole così sbavature di produzione dovute allo stampo dovute a quando si si toglie dallo stampo veramente fatta fatta bene sarei indotto a pensare come per qualche altra penna e ve lo ve l'ho detto nel corso delle recensioni quasi quasi che fosse un modello anche un pochettino più così più costoso sempre che non mi ascolti caveico questo assolutamente no il prezzo va bene così andiamo a metterla alla prova della scrittura si è molto scorrevole pennino ovviamente scrive scivola scorre molto bene anche su una carta che come potete sentire più porosa dell'altra è un tratto fine ed effettivamente il tratto è fine belle doti di dinamica il pennino è inutile dirlo è un pennino di tipo rigido ma fa bene il suo lavoro e questo concorre a che cosa a rendere la scorrevolezza la fluidità durante la scrittura non ho segnato che l'inchiostro usiamo un'altra un altro tipo di grafia l'inchiostro è il caveco brown e voglio fare la prova col pen col cappuccio calzato perché abbiamo detto che questa sezione in metallo sposta un po il baricentro della penna in avanti se il fusto non è riempito a dovere ma col cappuccio calzato un cappuccio pesante la penna secondo me diventa abbastanza sbilanciata perché troviamo una sezione ve l'ho detto che porta un po di peso qua ma ce n'è proprio tanto qui perché il cappuccio è l'elemento forse più pesante di tutta la penna e quindi a me piace utilizzata così fra l'altro mi piace così tanto lo sviluppo che ha il fusto con questa diciamo finitura tronca anche se non è tronca perché come potete vedere è arrotondata e smussata e non è del tutto piatta che mi piace anche guardarla mi piace anche guardarla così in conclusione è una stilografica ben realizzata di sostanza perché comunque quando si impugna si sente che c'è una penna in mano che quindi diventa anche più facile da guidare forse non è la più leggera per fare una sessione di scrittura lunghissima in questo caso ci aiuterebbe un qualche grammo in meno però per chi ama unire le due cose e prendersi anche qualche piacevole sessione calligrafica o comunque di scrittura curata è una penna che si comporta davvero bene il prezzo poi è più che mai centrato considerando che esiste la versione base che ha un prezzo d'attacco questa chiaramente è rifinita meglio e poi insomma appartiene ad una collezione dedicata alla musica non è una collezione esclusiva ma comunque rientra in un progetto ed inoltre ci sono anche delle raffinatezze in più che vi ho mostrato quindi per me è promossa a pieni voti inoltre i pennini caveco sono dei pennini più che mai validi e questo fine secondo me si pone proprio nella giusta prospettiva perché non è l'extrafine che comunque a volte andrebbe forse curato un pochettino di più non peraltro è nata anche la serie premium non è il medio che a volte appare persino un po troppo scorrevole quindi sfrenato nella grafia questo f funziona davvero bene cari amici vi aspetto ai prossimi video e un saluto inchiostrato a tutti